Buongiorno, parlo molto bene italiano perché siamo qui, cerco di farlo, spero che sia possibile. Grazie. Allora, il film si chiama La principessa di Egitto, The Prince of Egypt, in finlandese cinematica, è il mio primo lungometraggio come regista, ma ho fatto tre altri lungometraggi come senenciatore e sono più senenciatore che regista, non so se è apparente, spero che no. Questo film è passato su qualcosa che veramente è successo in Finlandia, 11-12 anni fa, ma ho cambiato quasi tutto. E questo non è veramente molto importante perché c'è una storia vera, anche questa storia, ma la storia non è molto originale, non è qualcosa straordinario. Ma per me era importante cercare di capire questa donna, la protagonista del film, forse cercare di capire come sia possibile che l'amore diviene qualcosa pericoloso. It's started to fade Like some kind of pain A world's gone by A misery Grazie a tutti.